buonasera e benvenuti a starremo new talent 2023 audizioni nazionali dirette in casting ufficiali punto it evento ideato e promosso da davis paganelli in collaborazione con np communication questa sera artisti che si presentano da tutta italia ma soltanto dieci di loro potranno accedere alla super finale alla finalissima a giudicarli una giuria di grande rispetto di tutta qualità presento subito è il grande direttore d'orchestra conosciutissimo è il presidente di questa giuria ed è il maestro vince tempera ringrazio anche per la sua presenza una delle più belle voci degli anni 90 joe salinas e ancora presidente di phone o play paolo paltrieri concludo ma non per meno importanza anzi saluto il patrone di sanremo new talent talent scout internazionale davis paganelli però direi che è il momento di far entrare i nostri artisti e so che nel backstage già c'è pronto qualcuno e allora do la linea alla backstage perché voglio saperne di più cosa ci racconti di te una breve tua descrizione prego grazie gianluca io sono anna brunetti vengo da lassio sono una cantante e vi esibisco in qualche serata adesso ma dici quali sono le sensazioni che provi quando canti siccome quando canto io mi emoziono tanto e mi piace cantare da quando ero piccola e con appunto saremo un talent è una possibilità per farmi ascoltare dal pubblico maggiore ma adesso è arrivato il tuo momento devi rompere sul palco perché sei tu il protagonista di sanremo new talent 2023 benvenuta sul palco dell'altro mondo studios che ci fai ascoltare se stasera sono qui se stasera sono ma certo che sei qui eccoti prego se stasera sono qui se stasera sono qui e perché ti voglio bene e perché tu hai bisogno di me anche se stasera sono qui anche se non lo sai se stasera sono qui e perché so perdonare non voglio chitarmi così il mio amore per te non voglio chitarmi così il mio amore per te se stasera è la montagna più alta del mondo e adesso è solo qui e perché adesso è solo qui e perché voglio dimenticare i pensieri prestigio e il mondo se stasera sono qui e perché ti voglio bene e perché tu hai bisogno di me anche se non lo sai per me per me venire qui è stato come scalare la montagna più alta del mondo e adesso che sono qui e perché voglio dimenticare i pensieri prestigio e il mondo se stasera sono tu E perché ti voglio vedere E perché tu hai bisogno di me Anche se non lo sai Anche se non lo sai E mi piace tantissimo Mi sono divertita tantissimo Consiglierei assolutamente Dieci e lode sicuramente Siete bravissimi Bravissima all'organizzazione Anche quella che sta dietro Sono molto contento di essere qui E molto contento del vostro staff È stata un'esperienza meravigliosa E che rifarei sicuramente Diciamo che è veramente emozionante Non mi aspettavo tutto questo calore Venni la prima volta a Sanremo Nel 97 e nel 98 Ma niente a che vedere con questa esperienza Bellissima È stata un'emozione veramente indescrivibile È stata una bella esperienza È stato organizzato molto bene Wow, veramente è tutto stupendo E ci sta L'organizzazione molto buona E anche dal punto di vista dei giudici Dei giudici molto talentuosi Il giudizio non può essere più che positivo Perché nei miei confronti è stato molto molto bello Grazie a tutti Tutti bravi Disponibilità grandiosa Bravissimi Bravissimi Bravi, grazie Grazie Direi che siete molto organizzati Uno staff pazzesco Siete fantastici Veramente È una grandissima accoglienza Ci fate sentire veramente degli artisti E questa è una cosa importante Fantastico Se non vuoto Cento per cento Vabbè Senti, non ti chiedo il giudizio su se non è monetamente Perché insomma Se sono tre volte che vieni Evidentemente Non può essere indubbiamente negativo Dieci, undici, dodici Curato nei minimi dettagli Impeccabile Molto Molto perfetto Sempre impeccabili Veramente tutto molto ben curato Sempre tutto nel dettaglio Mille, mille Assolutamente mille Sono dieci Sarebbe da Ruffiani Ma darei anche la lode Perché è davvero Organizzazione perfetta Ci è stato tutto molto bello Figo Il livello è stato eccellente Della produzione Quindi vi ringrazio Vi ringrazio veramente a tutti Per il lavoro enorme che state facendo Migliora sempre di più E poi mi piace lo staff Siamo divertiti Penso anche gli altri siano divertiti Mi sono divertito tantissimo Tutto perfetto Preciso Che siete super simpaticissimi E ho fatto parecchie amicizie Devo dire impeccabili Sinceramente Un bellissimo traguardo E da rifare Vabbè io ho tante esperienze Perché non sono più un ragazzino E ti assicuro Non è per retorica Il fatto per dire Che è un'esperienza molto bella Ovviamente Informativa E l'atmosfera è stupenda Veramente Tranquilla Per cui sono rimasto contentissimo Felice Come disse un grande musicista dei tempi Meraviglioso E che è un'esperienza di poter E che è un'esperienza di poter